Per il prossimo decennio ci aspettiamo 10 milioni di interventi di cataratta da fare sulle persone e ci aspettiamo che una persona su quattro contragga una maculopatia legata all'età da gestire con verosimilmente i farmaci intravitreali. Cosa vuol dire questo? Che dobbiamo smetterla di pensare di vincere come medici ma dobbiamo imparare a gestire e gestire significa lavorare sui grandi numeri pensando ai dati epidemiologici e stando molto attenti a esercitare la giusta misura di prevenzione quando siamo ancora in tempo per deflettere percentuali anche non enormi ma comunque importanti da questo tipo di patologie perché la differenza anche solo di un 10, di un 20, 25% di persone a cui l'insorgenza in questa patologia viene rallentata o viene addirittura evitata può significare una differenza tra far collassare il sistema sanitario e tenerlo in piedi.